Alcmeone di Crotone e riuscì a scoprire che l'organo principale del nostro corpo è il cervello dal cervello partono tutti gli input quindi grazie ad Alcmeone la medicina non era più vista come un'arte magica ma come una vera e propria materia scientifica Alcmeone ha lasciato delle scritture quella che ci è arrivato oggi ai nostri giorni è l'opera sulla natura dove spiega che il corpo umano è una macchina e per far sì che bisogna, per star bene il nostro corpo ha bisogno di mantenere degli equilibri e se creano questi scompensi di equilibrio si creano dei problemi quindi lui cosa dice? che bisogna tenere sempre il nostro corpo in una sorta di equilibrio naturale questo è tutto, ci vediamo al prossimo episodio